In Italia 3 milioni di persone soffrono di depressioni di cui oltre 2 milioni sono donne. Una malattia spesso non trattata adeguatamente, un milione infatti ce l'ha in forma maggiore, grave, ma solo la metà viene trattata correttamente, tempestivamente. Lo hanno evidenziato in occasione della giornata mondiale della salute mentale che si celebra oggi gli esperti riuniti a Milano per l'incontro Depressione Sfida del Secolo verso un piano nazionale per la gestione della malattia organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e Janssen. I disturbi mentali, ha spiegato Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, sono la principale causa di morti, disabilità e impatto economico al mondo e sono molto più frequenti di quanto si possa pensare. Ecco perché dovrebbero essere considerati la principale sfida per la salute globale del XXI secolo. Il cosiddetto male di vivere è una malattia in aumento, come dimostrano i dati presentati. Tra il 2005 e il 2015 il numero di casi è cresciuto del 20% e oggi la depressione coinvolge nel mondo oltre 300 milioni di persone, tanto da essere diventata la prima causa di disabilità a livello globale. Fino a 20 anni fa era il quarto posto. Una patologia che può avere risvolti molto gravi. Non è un caso se la giornata mondiale di quest'anno viene dedicata alla prevenzione del suicidio. La depressione maggiore, infatti, se non trattata correttamente, è associata ad un'elevata mortalità, stimata intorno al 15%. Nei pazienti con disturbi dell'umore, uno su tre arriva a cercare di togliersi la vita almeno una volta nella vita e a volte i farmaci neanche bastano. Basti pensare che del milione di pazienti con depressione grave, circa un terzo non risponde alle terapie tradizionali, pur somministrate in dosi e tempi adeguati. Sempre più pazienti con disturbi mentali e sempre meno psichiatri ed operatori per curarli. Nel 2017, infatti, secondo gli ultimi dati, oltre 92.000 sono stati ricoveri e 600.000 gli accessi al pronto soccorso, mentre in un solo anno si è registrato un callo del 10% di medici psichiatri ed operatori, da 62 a 56 per 100.000 abitanti.